Questa azienda è di proprietà della mia famiglia dal 1954. Questo vino di Tempraniglio si vendeva insieme al Sangiovese. Il mio babbo non sapeva che era Tempraniglio e quindi mio babbo ha prodotto Chianti per tutta la sua vita. Il Chianti è un blend dove il Sangiovese è la più alta percentuale però poi ci sono tutte le piccole percentuali dei vitigni complementari e questo ne faceva parte. Si chiamava Chianti? Si chiamava Chianti. Perché aveva le percentuali del Sangiovese giusto? Esatto, e tutte le uve complementari intorno che definivano il blend, ma lui non sapeva che questo era Tempraniglio. Oggi non è possibile? Oggi non è possibile, no. Perché Tempraniglio non si può entrare in questo blend? No, oggi si può purtroppo, per la mia filosofia, in Toscana utilizzare anche i vitigni internazionali. Si può usare Merlot, Cabernet in piccola percentuale, noi non la usiamo, però si può, il Tempranillo no. Il Tempranillo è fuori dal disciplinare del Chianti. La Toscana era tutta divisa fra le grandi famiglie nobili fiorentine o senesi e le grandi proprietà della Chiesa Cattolica. La mia famiglia era una delle famiglie contadine che lavorava alle dipendenze di una di queste grandi famiglie. E vive qui la mia famiglia già dalle metà dell'Ottocento, però non erano proprietari. Erano contadini alle dipendenze e tutta questa area era di proprietà dei Marchesi Ridolfi, una delle grandi famiglie fiorentine. Poi nel 1954 mio nonno è riuscito ad acquistare la proprietà dove già la famiglia lavorava. È iniziata la storia della Beconcini come imprenditrice agricola, come azienda agricola proprietaria. Noi qui abbiamo la produzione naturale e spontanea del tartufo bianco, che è una cosa che non si può coltivare. Si trova solamente spontanea nei boschi. E questo ci dimostra la valenza del terroir, l'importanza, la pulizia del nostro terroir, che poi diventa importante e adatto anche per la viticoltura. Tutte le terre da tartufo sono anche terre da grandi vini rossi. Questa è la regola in Italia. Faccio due tipi di Chianti, la giovane e la versione riserva, tutti fatti come si facevano una volta. Molto, molto, molto tradizionali. Il Tempranillo per noi è l'innovazione del vino assamminiato. Il Chianti è la tradizione e non ci sono compromessi. L'innovazione può anche avere un'espressione moderna, ma sempre molto, molto legata alla nostra terra. La tradizione non scende a compromessi, solo come si faceva una volta. Noi facciamo Chianti, ovviamente in massima percentuale da Sangiovese, poi sulla versione giovane usiamo ancora una piccola percentuale di uve bianche, di Trebbiano, come si faceva una volta. Il Chianti è il vino quotidiano della Toscana. La versione riserva invece è un vino molto complesso, ancora con una vena acida importante, fatto da Sangiovese con un pochino di canaiolo, senza inquinamenti dall'esterno. Noi dobbiamo essere fedeli al nostro stile. È una sottozona, sì. Questa sottozona qual è? È Pisa. Pisa? Pisa perché noi siamo politicamente adesso in provincia di Pisa. Sangiovese è una terra di confine, ha cambiato provincia di appartenenza molte volte nella sua storia perché stiamo proprio sul confine fra Pisa e Firenze. In questo momento, da 70 anni, apparteniamo alla provincia di Pisa. In passato appartenevamo alla provincia di Firenze. Sì, perché il Chianti è prodotto su 5 province, quindi ha bisogno di identificare il Chianti in funzione della provenienza delle uve. Quindi c'è Arezzo, c'è Siena, c'è Firenze, c'è Pistoia e c'è Pisa. Dopodiché all'interno di queste province ci sono anche delle sottozone molto peculiari, alcune più montane, alcune più pianeggianti. Quindi il Chianti è diviso un pochino, come si fa anche a Bordeaux, nelle sottozone, cioè zone più piccole che identificano meglio la provenienza e lo stile di quelle uve. E qual è la principale identità di questa sottozona di Pisa? Allora, questa è caratterizzata principalmente dal suo particolarissimo terreno. Allora, questo è un ex fondale marino di 3 milioni di anni fa. Questa è argilla bianca pliocenica, molto molto calcarea e molto salata. Questa è la sua principale caratteristica. Il terreno influenza tantissimo le uve. La vigna, la vite, sappiamo che riesce con le sue radici a catturare i minerali del terreno. E qui trova tantissimo calcare e tantissimo sale. E questo vuol dire vini anche di struttura, ma molto molto bevibili. Perché il sale e il calcale fluidificano i liquidi. Inoltre, come possiamo vedere, la dolcezza del clima. Questa è una piccola area che rimane protetta da est e da nord da tutta la catena montuosa degli appannini che abbiamo qua sopra, qua a nord, ed è completamente aperta al mare. Quindi abbiamo un clima molto dolce. Sì, in inverno fa freddo, ma poi tutto il resto dell'anno, quindi dalla primavera fino all'autunno, abbiamo questo clima con le notti fresche e le giornate calde, che io chiamo dolce. Perché è molto molto favorevole all'agricoltura. Grazie. Grazie. Grazie.